Salve a tutti i popoli in sport e benvenuti in Germania, questo è il famoso pacco da giù, 140 kg di pacco in pedana e ora lo devo aprire per scoprire il suo magnifico contenuto. A breve vi faremo vedere anche cosa ci sarà dentro, ok? A tra poco. Siamo arrivati i pacchetti. Allora siamo qui con Giussi, la mia fidanzata, sta aprendo i pacchetti da giù. Oh io ho già vedo un marattolo. Naturalmente ragazzi siamo vestiti malissimo perché il corriere non ci ha chiamato, ce lo siamo tratti in casa fondamentalmente. Questa è la conserva di peperoncino che fanno i miei, queste sono le salse. Mamma mia. Basta. Ah la salvia. L'alloro. L'alloro. Questa è una padella. Poi ora persino le padelle ci hanno mandato. Altra conserva, sì noi in Calabria col peperoncino ci andiamo a nozze. I sughi, i piattini, le tazzine. Ok, questo pacco è per lo più conserve e miscellane avari. Ammo i limoni. I limoni che servono come riembitivo. Casa Suracia insegna. Ma che carine. Adesso apriamo il secondo pacco. Nel frattempo ragazzi abbiamo messo il caffè, se ne metto un po' di casino alle mie spalle, è normale perché abbiamo dovuto fare spazio a tutta sta roba. Adesso apriamo il secondo pacchetto. Certo con una mano mi viene difficile. Assistente, aiutante. Allora, forse questo l'ho capito. Già vedo l'asciugamano virgin. Devi aprire anche l'altra vita, se no non faremo mai niente. Sì, non è proprio quello dedicato alla palestra, però abbiamo asciugamano. Ah sì, lo vedi? I fiocchi da vero. Noci, ciocchi d'avena, le noci, le mandorle. Tipicamente cibo da palestra, come dopo tutto, i pasticcini qua. Le tagliatele all'uovo. Le tagliatele all'uovo, i wafer, lo shampoo. E questo? Cos'è? Olio. Olio! Sì, un litro di olio! Non è olio. Non è olio. Sì, è olio, però col freddo si è solidificato. Evidentemente il magazzino sta per almeno quattro... Sì, è olio. Un rielmo. Finalmente il caffè Guglielmo, ragazzi, voi sicuramente non lo avete il caffè Guglielmo, perché è una marca tipicamente calabrese, però è il caffè più buono che ci sia. Dopotutto, in Calabria, sappiamo fare le cose meglio. Allora, adesso... Terzo pacchetto. L'assistente? L'aiutante? Sei un elfo. Sei l'elfo dei boschi. Ragazzi, la mia ragazza non avrebbe mai accettato di fare un video su YouTube se non fosse per queste cose così buone. Ok, qua ancora pasta. Pasta. Rizzo soffiato. Fitness, il couscous. Altre tazzine da caffè e tè, fantastico. Limoni, limoni come riempitivo. E qua, lenzuola di tutti i tipi, in maniera... Qualche cosa. Qua c'è... La salsiccia. Questa, ragazzi, questa è la salsiccia fatta made proprio in casa, proprio homemade. C'è altro. C'è sempre altro nei pachiglie. I peperoncini! Guardate come sono tamarri. Sono fenomenali. I calzini, i calzini. I calzini. Ho portato, ragazzi, cosa sono venuti in Germania? Ho portato una valigia solo di mutande e calzini. E naturalmente i miei cosa fanno? Continuano a mandare calzini. Quello per ultimo, perché quello è un pacco che da solo vale il prezzo del biglietto. È enorme. Adesso la nostra assistente, nonché elfo, aprirà l'altro pacchetto. Con un pugnale. Ok, questo ha avuto una persona facilitata. No! Sì! Oh no! Sì! La mia cinta, Domius, lo so, ragazzi, è la marca della Decathlon. Mi ci sono affezionato a questa e con me rimarrà per sempre. Sugghi. No, questa non è sugo. Questa me l'ha detto mamma, era zucca. Questa è zucca già pronta praticamente, voglio. Wow! Guardate, sugo con carne, a pezzi. Aspetta, 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 che qua mi sa che c'è. Aspettate, ragazzi, perché me l'aveva detto mamma che me l'aveva messi questi altri sughi. Ma che ne sapete voi che state guardando questo video? C'era... Ah no, forse negli altri pacchetti e me vanno a trovare. C'è? Ah, no, per il bucato. Ah, questo è dei odoranti. Guardate il quantitativo di diodoranti. Mamma mia, questo è per il bucato comunque, ragazzi. Ok. No, mi sa che... No, adesso avremo... Questa è pausa, vita, perché? No, quella è la tv. Allora, quella già lo sappiamo che è la tv. Ah, questi hanno dei miei pausa. E ora, apriamo. Scusa, allora manca... Nel frattempo che la mia assistenza apre, vi volevo fare vedere una cosa. Perché i miei... E no. A trovarli. A trovarli. Ma qua c'è... Oh no, qua c'è un altro pacchetto. Ecco. E se non è che 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 non è che. Ragazzi, te lo metti, ragazzi. A voi sto facendo... È grana questo! Dalla forma, la ricorda? Yeah! Guardate, ragazzi. Questi sono i tesori. Questo è parmigiano reggiano, raga, mica cazzi. Grana. Grana padano, insomma, raga, distinguiamo che qua poi succedono viti. Comunque... Vabbè, raga, devo trovarli, non lo so dove sono. Allora, ragazzi, se volevamo aprire questo qua, però poi abbiamo appunto per questo piccolino, per questo creiamo un pochettino di suspense, un po' di hype. Naturalmente voi vedete questo casino, oggi arriveranno anche i mobili dell'IKEA, che di per sé è un tutto dire. Amore, amore, mi taglia. Attenzione. Perfetto, perché io ci tengo le mie falange. Mi inquadri, per favore. E mi vedete anche a me questo video! Mamma! Allora, la mia ragazza c'è il vizio è che quando fai video li taglia a metà, però non sa che qua stesso deve andare sul canale YouTube, quindi non tagliarlo, lo taglio io dopo. Allora, io spero di averlo aperto giusto, perché per me i ragazzi sono stati girati e rigirati più volte. No. Ok. Ok. Finalmente sono alla conclusione. Era al contrario. Facili da aprire, proprio. Ah, ci sono sette stati di morbidezza. Allora, qua cosa troviamo? A parte cartoni, cartoni, cartoni. Allora, qua piano. Madre! Ok, questo è quello che mi è emozionato di meno. Quello che mi è emozionato di meno. Attenzione però, attenzione, colpo di scena, che cosa c'è? Perché noi siamo degli ubriaconi, in verità. Amo, il caffè sul fuoco. Bene ragazzi, mi sa che abbiamo appena bruciato il caffè, perché c'era un po' di roba da gestire qua. Io no. Bruciato? No, dai che buono, è buono. Secondo me sarà un lassativo. Attenzione, colpo di scena. Alla fine, che cosa troviamo? Non lo so. Carne, petto di pollo, uova. Se col pigiama. Realmente ragazzi, io sono proprio con la tuta, perché sono acceso sotto a parlare con il signore che ci ha portato i pacchi, giustamente. Se fa parli, fa queste cose. Sì, dovevano andare forse, non lo so, in Vietnam, in Cambogia, comunque. Però giustamente è in pigiama, io non so che cosa stai facendo, mi staccano un po' e la mano. Ora, io mi incazzo seriamente, perché? Guardate che cosa c'era dentro quel pacco che non riusciva ad aprire, stavo cadendo. Questo. Cioè, ve lo ricordate all'inizio del video quanto era? Ecco. Ora andava in mille pezzi. Comunque ragazzi, quello che volevo fare vedere era che i miei mi avevano mandato persino, ecco cosa potrebbero essere quelli, amore, forse non è olio, sono i broccoli. Oh mio Dio. Perché i miei, i miei mi avevano mandato anche... Ma non fa l'olio, amore? Sì. I miei mi avevano mandato anche i broccoli fatti in bottiglia, messi sotto bottiglia. No, quello sicuramente è olio, i broccoli saranno in un'altra situazione che adesso mi sfugge. Eccoli! Eh, lo trovate ragazzi. Ve l'ho detto. Questi qua sono broccoli, come potete ben vedere. Con un po' di acqua, già sottovuoto, con il metodo casalingo. Vedi? Non fanno così. Ed è praticamente... Questi qua poi si viene buttato dentro, si mette la pasta e via. Ok, adesso l'hype è finita. Sì. Giussi che cerca una via di fuga come un criceto in un labirinto. Nel frattempo io vado a togliere il caffè dal fuoco. Oh, 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 oh. Era già tolto. Secondo me non è fuoco. Però... Il lato giusto. Sì, coltelli che stiamo utilizzando sono stati gentilmente offerti da una nostra collega, anzi da una collega a dire della mia ragazza. Da Daliluzza. Da Daliluzza. Ma sono pugnali, sono. Cioè, in verità sono pugnali. Cioè, con questi potessi andare tranquillamente a caccia. Ah, che bel humor. Vabbè, vabbè, cusci. È nascosto nell'angolo fra un cusci. Nell'altro cosa c'è? Pasta. Altra pasta. Pasta. Pasta come riempitivo. Quella potevano mettere un po' di pasta, no? Allee! Pasta, pasta. Pasta. Crackers così perché... Pasta all'uovo? Mamma... È un tour... È una voragine. Madonna, madonna. Ma scende ancora per tanto? Mamma, quello che volevo io! E ci sono i panidotti. Che cos'è? È il calendario. Ah, ok, ok, ok. Ok. Ma non sappiamo cosa è. Qua è... C'è nessuno! Ci vogliono gli speriologi qua. Ma che è sta roba, Egan? Egan. Mamma, che belli! Ma che cosa sono? Sono dei barattoli, no? Non abbiamo spazio per muoverci in casa. Oh! Ah, provola! La provola. Provola, ragazzi, non so se da dove c'è. Gioppà! Tutta roba di retica. Allora, ragazzi, questa qua è un formaggio che... No, ho capito... A quanto scopertamo... Non ce l'hanno in tutta Italia. No, aspetta, no, ce l'hanno. Ma non ce l'hanno fuori dall'Europa. Da 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 da... La terza macchinetta. Ah, ah. In vialetti. Comunque. Mamma mia. Ok, ragazzi, io il video lo faccio concludere qua. Non è una fine questa scatola. Eh, vi abbiamo fatto vedere quello che ci potrebbe essere di base, di media, dentro un pacco da giù. Io però questo modello di penne le odio perché sono lisce, va benissimo. E io! Ma va bene. Sono buone. E io! Questo è quello che trovate all'interno di un pacco che viene dalla Calabria. I limoni come riempitivi. Quello, ragazzi, lo sappiamo, è una televisione, fondamentalmente. E questo. Mamma mia, il mio cuscino! Finalmente avremo due cuscini. Come potete ben vedere, ancora il pacco non è finito. Noi, naturalmente abbiamo iniziato a scalfire giusto la superficie di questa situazione. altra grana, però la grana, intesa come i cash, i dindini, i geld, money, non le abbiamo. No, comunque. E questo cos'è? No! Che cos'è? Bellissimo! Questo è un portagioielli, ragazzi. Cioè... Io l'avrei coperto, il mio papino. Grana. Altra grana. No, non c'è la fine qua dentro. Non c'è la fine qui dentro. Io una cosa ci volevo... Aspetta, sto inquadrando, sì, con lo zoom a per sé, un secondo e le... Allora, una cosa volevo dire. A mo' mi inquadro? Sì. Allora, una cosa volevo dire. Da questi pacchi si evince che in Germania o non ci sono i supermercati o si mangia male. No, i supermercati ci sono e sono anche dei supermercati che sono aperti tutto il giorno, anche la notte addirittura. Noi abbiamo qua un supermercato, lo scorso sabato, ti ricordo, di sabbiato di fama. Siamo andati, abbiamo comprato, allora, alle 11 e mezza abbiamo fatto la spesa di sera. Infatti i commessi ci stavano odiando. Però, la roba che... C'è questa roba, ragazzi, cioè non ha prezzo. Qua non la trovi. Sì, trovi il modello di vela, trovi il barilla, quello qua, però, ragazzi, scusatemi tanto. Guarda! Non ti inquadro perché sei... Ok, però, ragazzi, c'è, questi qua, non è albicocca. Questi sono zucca, zucca, sugo, poi andiamo a capire meglio che cos'è. Cioè, questa è fatta tutta a casa mia, con l'olio. C'è, capito? Ragazzi, io spero che questo tipo di video vi sia piaciuto. Spero di farlo uscire già oggi, al di fuori di ogni tipo di programmazione. E, niente, adesso vi metto a posto tutto quanto perché fra non molto vorrebbero arrivare anche i mobili dell'IKEA. Quindi avremmo questi pacchi più altri tre mobili e un divano. Quindi, wow! Buon allenamento da InSport. E... Ciao! Volete fare colpo su una ragazza calabrese? Non fatevi trovare la solita sorpresa. Anello. Una bella corda di salsiccia e quello che ci vuole. Mamma mia, non la mangeria. E giù i vegani e del mimare sotto sotto i video. Allora... Non so se si vede. Naturalmente 100% crotone sulla elve. Questo lo sai cos'è, amore? Sì. Quello è matrimoniale. Facciamo vedere quello che stiamo spacchettando. Dove c'è il tempo? No, vabbè. Le highlights. La razza. Caffè. Vedete che c'è un po' non dobbiamo comprare caffè. E manco pasta! Mamma mia, ti sei ripresa! Eeeh! E corre, e corre! Mamma mia, le scusse, barrette, di ogni tipo, misure con me. I calzini. Ah mamma, aiutami qua. Che è successo? Non so qua che c'è. Oh. C'è un pacchetto. Rega, qua. Ah, è il tappeto. Ah, non credo. Già, sì. Ma cos'è questo? Mmm, interessante. Cos'è questo? È un vassoio. Mamma mia, la ci saranno lì. Basta. Vai, ecco lei. Mamma! Ricordi ancestrali? Eeeh, vabbè. Sì, ho capito, ma questa avevamo 14 anni quando l'avevamo comprata. Sì, già. Quindi già mi volevi spiegare. Ah, ma che la nostra utenza non lo sa che a luglio ci spaziiamo. un uomo. E allora lascia. Grazie.